va bene a tutti e ben ritrovati sul canale oggi è giunto il momento tanto aspettato perché è arrivato lui mister chu von clay il numero precedente che era bohenko con l'ho saltato perché comunque non è un personaggio che mi fa impazzire che non mi piace come personaggio e quindi faccio soltanto i personaggi che mi piacciono poi gli altri due i prossimi due che arrivano sono della chiccata e poi ovviamente tutta la giurma di rubber quella del vecchio mondo l'assalto perché sto ormai c'ho quella del nuovo mondo e faccio soltanto con lì devo soltanto per recuperare jim bei quindi siamo a tiro anche di concludere diciamo questa serie quindi settimana scorsa era c'era bohenko il numero 19 che non l'ho fatto e andiamo a fare mister chu che l'hanno fatto in versione dicono i vestiti di impel down quindi è per questo che non è con i vestiti così come ce l'avete lo avete qua sulla copertina dicevo che comunque ormai siamo praticamente giunti alla conclusione anche di questo perché ormai ne mancano veramente pochi vi faccio vedere il prossimo numero di 21 che non può mancare barba bianca e lui che non può mancare nella collezione ma adesso andiamo a vedere un po mister chu von clay nome mister chu von clay venta età sconosciuta ex agenda bar quarks perché faceva parte del bar della bar quarks dopo qua comunque con i vestiti da prigioniero perché è stato preso in prigione da impel town questo allora c'è baggy mister chu quest'altro mister 3 direi comunque dal bar quarks rabba questo è magellan comunque il direttore della prigione di impel down il vice comunque non delle guardie perché comunque l'ho visto veramente tanto tempo fa la serie di impel danno quindi non mi posso veramente ricordare tutto e comunque poi finisce con un po di descrizione del personaggio di mister chu e poi come detto c'è il prossimo numero e barba bianca e nella collezione barba bianca ci va perché non può mancare il bel no ma adesso poi passiamo a lui a vedere un po da vicino come il nostro caro amato mister chu che ha la solita basetta per tenerli in piedi proprio semplicissimo semplicissimo ma poi ovviamente iscrivetevi al canale perché so che vedete i video ma non mi scrivete è gratis non quindi anche un bel pollicione in su e proprio semplice semplice come vestiti le sue scarpette quindi proprio proprio semplicissimo quindi non c'è neanche tanto da commentare il viso fatto anche molto bene quindi cioè non ha neanche tantissimi dettagli quindi proprio è difficile da sbagliare con la sua basetta si presenta così quindi ragazzoli belli questo mister chu che va proprio nella collezione e niente lasciate like iscrivetevi e ci vediamo poi a un prossimo appuntamento bello